Il progetto si può realizzare, è questione di tempo, solo di tempo. Finalmente è arrivato l'originale del 1929. Le mie intuizioni cambieranno le sorti del paese e il futuro sarà migliore. È un'utopia, lo so, ma un'utopia possibile. Trarre ispirazione, rielaborare, ecco il miglior modo di procedere. L'isola magica di Sebro. Il primo libro su Haiti e le sue pratiche magiche, la prima opera in cui appare la parola ZOMBI. Si fece dare da un ospedale legato alla sorbona tranci di un uomo sano morto in un incidente e ne cucinò in varie preparazioni la carne e ne descrisse accuratamente il sapore. La follia fa parte della genetica di un genio. Mano d'opera gratuita e uniformarsi, ecco l'obiettivo. Può non piacere l'idea di ZOMBI che lavorano nei campi di cotone, ma sarà un'altra cosa. Moderna, innovativa e vincente. Moderna, innovativa e vincente. Moderna, innovativa e vincente. Moderna, innovativa e vincente. Moderna, innovativa e vincente.